Buongiorno, il video che registro oggi sarà un video abbastanza breve ma ci tenevo a registrarlo per due motivi il primo è perché mi serve proprio per uno scopo pratico perché sto testando un obiettivo che recensirò nei prossimi giorni quindi volevo provarlo a tutto tondo e quindi volevo vedere anche le performance in ripresa con autofocus continuo sul volto in video e questo va bene, è un motivo più per me e forse ma in verità anche per voi se sarete interessati a recensione che uscirà e il secondo motivo è perché volevo un po' chiarire la mia posizione, mi sembra un po' eccessivo però ho fatto una scelta che avete visto dal titolo del video che va un po' in contraddizione con quello che avevo detto in un video passato e con quella che era stata una certa impostazione che avevo deciso di mantenere ovvero non aggiornare più Fotolab ero rimasto alla versione 3, versione 3 che non mi permetteva di sviluppare i RAW della 7C però la cosa non mi creava particolari problemi e invece qualche giorno fa, ma pochi, proprio due o tre giorni fa, ho acquistato Fotolab 4 nonostante avessi detto che non volevo riaggiungere un altro software non volevo aumentare la mia spesa per i software e volevo snellire il comparto di software che uso per lavorare cosa mi ha portato invece a cambiare idea dopo diversi mesi insomma di resistenza cosa mi ha portato a cambiare idea? allora, il problema è non tanto quando faccio lavori che gestisco diciamo in studio dove ho un modo metodico di lavorare, quindi faccio i miei scatti sono tutti separati, quindi arrivo a sviluppare i file che io già ho delle batterie, dei set di file che vado a combinare, a sviluppare e a lavorare e in quel caso non ho problemi i problemi quando sorgono? quando devo lavorare file che sono scattati in maniera magari random che siano file per lavoro, file per piacere o anche file per recensioni per il canale per esempio e mi trovo un'enorme quantità di file d'immagine da gestire qual è il problema? Bridge di Adobe permette la catalogazione però per me non è un sistema pratico perché l'anteprima, il sistema di anteprima non mi piace diventa molto farraginoso se devo aprire più file, confrontare più file quindi Bridge l'ho usato per un po' di mesi ma no, no, non fa per me non amo i software che obbligano a creare un catalogo motivo per cui non ho mai usato Lightroom motivo per cui, ora però non ricordo ma mi pare che non mi ricordo se c'è un'alternativa per esempio provai Capture One per un mese, software sicuramente interessante non mi ricordo se anche lì ormai si può prescindere dal catalogo insomma, dover creare un catalogo a me non piace un po' per il sistema del catalogo che sicuramente può essere utile ma non fa per me e un po' per il fatto che quando devo spostare i file se magari lavoro su un disco esterno insomma, tutta una serie di motivi per cui non mi piace il catalogo quindi sono tornato a DxO principalmente per fare la scrematura e la selezione dei file proprio all'impronta dividere file, cestinare subito quelli che non mi interessano vedere quelli che vanno bene e fare un rapido confronto questo è il motivo veramente che mi ha riportato ad acquistare Fotolab 4 quindi aggiornando dalla 3 c'è anche, poi utilizzandolo però, non è che c'è anche un altro motivo ci si ricorda perché mi sono ricordato perché ho usato per tanto tempo comunque, anche se non come software principale o in combinazione con Photoshop Fotolab allora, Fotolab ha un algoritmo di gestione del rumore e l'algoritmo per il trattamento della nitidezza e della correzione delle lenti il lens sharpen che trovo tuttora ineguagliati ripeto, per lavorare se devo lavorare dei file in studio quindi con una corrispondenza cromatica o con tutta una serie di caratteristiche mi va bene Camera Raw se vado a lavorare altri file poi a seconda anche di che lenti uso per scattare e anche di quali valori ISO uso per scattare Fotolab, no è superiore è superiore sicuramente a Camera Raw ma è superiore, credo, a molti altri software non voglio darlo per un valore assoluto perché non avendo usato versioni recenti di altri software sono fermo magari a versioni più vecchie quindi non vorrei dare dei valori assoluti dei pareri assoluti quando non ho raffronti recenti però il lavoro che fa Fotolab è ottimo la versione 4 ha implementato questo algoritmo Deep Prime per la riduzione del rumore ora l'ho provato su pochi scatti quindi non ne parlerò ora ma vorrei tornare a parlarne perché quello che ho visto mi sembra un buon passo avanti anche rispetto all'ottimo Prime precedente ed ha una gestione molto più flessibile rispetto al software più RAW che ho provato un po' di tempo fa ho fatto un video anche su quello però che non permette di assolutamente di dosare l'algoritmo né di gestione del rumore né di correzione dei profili delle lenti come valore aggiunto devo dire che in effetti non mi dispiace poter sviluppare anche RAW della 7C con Fotolab cosa comporta utilizzare Fotolab? che comporta che si allunga per certi tipi di scatti il mio flusso di lavoro anche perché dovevo usare due software comunque passo sempre dopo i file in Photoshop però devo dire che mi ha semplificato mi è tornato a semplificare la parte di catalogazione ma più che catalogazione no, sbaglio catalogazione di scrematura e selezione dei file ecco, questo è il motivo quindi l'aggiornamento non è stato alla fine un peso così grande perché venendo dalla versione 3 l'aggiornamento mi pare sia sotto i 90€ e quindi nulla sono tornato a Fotolab 4 quindi lo rivedrete nei prossimi video cercherò magari di fare anche vorrei fare un video un po' di confronto fra i due algoritmi potrebbe credo essere interessante perché dai file che ho visto non ne ho appunto sviluppati tantissimi però mi sembra che ci sia stato un ulteriore miglioramento bene, il video sta diventando anche troppo lungo volevo finire, volevo concluderlo qua volevo dare qualche informazione appunto non tanto su ciò che ho scelto io ma il perché l'ho scelto quindi come sempre mostrarvi una situazione in cui potrete magari riconoscervi magari sciogliervi dei dubbi like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella per non perdere i prossimi video piccolissimo spoiler in chiusura per chi ha seguito il video fino a qua allora la prossima recensione che registerò ho praticamente ormai tutto il materiale sarà quella del Sony 35mm f1.8 poi seguiranno quella del Viltrox però ho iniziato il Viltrox 33 1.4 per APS-C però ho iniziato a provarlo da poco quindi anche se mi sono già fatto un po' un'idea voglio provarlo meglio e credo che porterò anche un nuovo filtro della KNF continuate a seguire insomma il canale e vedrete un po' cosa uscirà ciao ciao